Aperta al pubblico dalle ore 17 alle ore 22 per consentire di visitarne all'interno, è la chiesa di San Pietro che si trova ad angolo tra la via Barone di San Giuseppe e la via Portastella, in pieno centro storico di Alcamo. L'apertura straordinaria di questa chiesa che è versa in condizioni di deterioramento si è resa possibile per iniziativa del FAI, Fondo Ambiente Italiano, che ha voluto prolungare in questo caso specifico l'evento delle giornate FAI di primavera già svoltesi il 18, il 19 e il 20 marzo, facendo aprire al pubblico la chiesa di San Pietro in questo fine settimana tra il giovedì santo e la vigilia di Pasqua.